Anche quest'anno l'associazione Lilliput di Massafra ha messo in scena il festival dedicato alle scuole di ballo e danza della fascia ionica. Infatti da otto anni la Lilliput annovera tra le sue tappe, località balneari, parchi acquatici e naturalmente le più importanti piazze dei paesi della provincia di Taranto. Ieri sera è stata la volta di Massafra. Si sono esibiti 34 gruppi danzanti, quindi qualcosa come 850 ballerini si sono alternati sul palco facenti parte di 9 scuole di ballo e un gruppo organizzato. Siamo davvero soddisfatti in quanto è ormai un appuntamento annuale da ben otto anni, molto atteso innanzitutto da chi è del settore, quindi dagli addetti ai lavori, scuole di ballo e scuole di danza, non solo di Massafra ma di tutta la fascia ionica. Il problema principale di Cielo Corotondo non è quello di mettere insieme tanti partecipanti, quanto quello di reperire le risorse economiche per mettere sugli spettacoli. Intanto domani sera si va in scena a Castellaneta Marina con altre scuole di ballo, quelle di fuori provincia oltre a quelle locali. Il festival ormai consolidato è entrato nel circuito regionale della Puglia sia dal punto di vista culturale dello spettacolo sia per quanto riguarda la promozione attraverso il portale di Puglia events.it.